Quello che la tua mente immagina, quello che la tua anima attende, Mauro Tonello, Radio Company e Biblos Disco presentano 90 Festival, Superstar, Power by Energia 90 Sabato 30 novembre, ore 22.30, Biblos Disco, Benedetto, evoluzione sonora di Harry Moray, Fromman, Mauro Tonello Superstar del vivo, Erika Joy Salinas Enlini Sabato 30 novembre, ore 22.30, Biblos Disco, Benevento, Global Info e Prevendite, 329 80 38 515 Prenota subito il tuo ingresso su ballanovanta.com La notte più famosa in Italia è tornata